salve a tutti buon lunedì benvenuti in questa sesta puntata della grande storia del tennis oggi un omaggio a un giocatore sempre italiano che ha finito gli anni ieri domenica 8 e quindi tanti auguri a omar camporese prima di parlare di omar l'invito è come al solito a mettere like al video ad iscrivervi al canale ad attivare la campanella per seguire le notifiche per avere le notifiche sui vostri dispositivi allora perché intanto ho scelto omar camporese perché omar camporese è il giocatore italiano per cui ho tifato nella mia giovinezza nei miei 14 anni quando ti avvicini a uno sport quando cominci a non a seguirlo ma insomma cominci ad appassionarti ai campioni a tutto io che sono sul tennis sempre stato un patriottico e beh come fai a non tifare negli anni 90 per il buon omar camponese che aveva un servizio e un dritto devastanti un giocatore finalmente dopo tanti giocatori da terra battuta un giocatore finalmente capace di vincere anche sulle superfici sulle superfici rapide di fare risultati anche sulle superfici rapide un giocatore però molto sfortunato come vedremo purtroppo nella sua carriera perché avrà avrà tanti infortuni in questo video le vittorie di camponese non sono tantissime ha vinto solo due tornei in singolare ha vinto ha vinto due tornei appunto in in singolare e ha vinto sul sintetico di rotterdam in finale contro ivan lander nel 1991 e ha vinto il torneo di milano quello che era il bel torneo di milano nel 1992 ma io vi voglio raccontare di omar camponese soprattutto in coppa davis perché lì che ha fatto veramente emozionare e soprattutto una partita di omar camponese in coppa davis che ha fatto la storia della davis degli anni 90 azzurra camponese appunto nasce a bologna il lotto lotto maggio del 1968 quindi ha appena finito ha finito ieri 60 58 anni no 54 anni ecco era uno specialista come detto delle superfici veloci due titoli atp unico italiano insieme a barazzutti ad aver vinto due titoli sul sintetico dove ha ottenuto vittorie contro e qui era il bello abbattuto il valente abbattuto cincurio abbattuto stefan ebbe sul veloce gorani marisevic stick moia brughera e sanchez questi sono gli scarpi di camporese è stato diciottesimo al mondo nel febbraio del 1992 dopo aver vinto dopo aver vinto milano ed è stato il il quarto italiano ad aver raggiunto una delle classifiche più alte è stato il quarto italiano in ordine di tempo ad aver raggiunto una è la top 20 e comunque una classifica intorno ai primi dentro i venti giocatori del mondo è molto vicino ai non ai top 10 ma insomma i top 16 che avrebbe rappresentato all'epoca le teste di serie principali negli slam allora inizia la sua carriera nel 1989 quando vince i campionati italiani sconfiggendo cane per ritiro 7 6 7 7 6 7 5 1 0 si ritira cane e omar è anche un giocatore che si destreggiava abbastanza bene anche sulla terra battuta nel 1989 nel 1990 per questo vi dico che è stato l'eroe della della mia dei miei 15 anni perché appunto negli anni 90 riusciva ad arrivare ai quarti di finale all'epoca pensate non è come ora che abbiamo l'aspettativa di vincere uno slam all'epoca un quarto di finale di un mille un quarto di finale di roma era festa io lo dico per chi guarda il video e si è approcciato al tennis in questi anni ora siamo tra virgolette abituati male perché non abbiamo ancora vinto niente ma siamo abituati bene perché i quarti di finale sono all'ordine del giorno in quasi nei tornei principali o arriviamo ai quarti o comunque li sfioriamo i quarti di finale all'epoca di camporese arrivare ai quarti di finale di un mille arrivare ai quarti di finale di roma era un'impresa vincere tre partite per un italiano era 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 un sogno perché non avevamo giocatori e camporese era visto come il possibile uomo italiano che se la giocava con i più grandi con i più forti pensate che nel 1991 agli australian open lui perde 14 12 al quinto set contro becker becker vincerà quelli australian open e quella con camporese sarà la partita in cui boris andrà più vicino a perdere di tutto il torneo non solo ma si ritrovarono in coppa davis in quel di dormut e nuovamente camporese costrinse becker al quinto set camporese vinse i primi due set e poi becker riuscì nuovamente a vincere al quinto ma ripeto portare al quinto set becker negli anni negli primi anni 90 era un'impresa fenomenale era era un'impresa un'impresa assoluta ma ripeto in coppa davis le il botto lo fa nel 1992 a bolzano contro la spagna l'italia parte nettamente sfavorita perché la spagna si presenta con sergi brughera futuro campione del ronan garos ed emilio sanchez ecco camporese batte 6 46 146 61 brughera e poi da una lezione di tennis a emilio sanchez la domenica vincendo 6 0 6 2 6 4 e vincendo anche il doppio in coppia con diego narciso che ora fa il teleconista su super tennis quella coppa davis però finì male perché l'italia al secondo turno prese il brasile in quella trasferta che sarà mese io che vi racconterò in un'altra puntata raccontandovi appunto di questa coppa davis del 1992 e della terribile trasferta di mese io con d'artagnan che in tribuna ci faceva impazzire con la trombetta con con i brasiliani scatenati e con la torcida brasiliana che fu veramente parte integrante della sfida ma com'era bello com'era perché la davis era questo si fa male nel 1993 e purtroppo non torna più ai livelli precedenti non riesce più a recuperare il suo tennis adriano panatta lo ripesca nel 1997 e qua vi racconto l'aneddoto il 1997 è la mia prima davis vista dal vivo sì bene sì ero a pesaro in quei tre giorni ero a pesaro quando camporese l'italia doveva affrontare la spagna appunto con una formazione di emergenza schierando il camporese che non veniva da dei risultati dei tornei assolutamente negativi ecco omar camporese doveva affrontare nella prima giornata carlos moia e teoricamente doveva essere il punto il punto a favore della spagna e insomma doveva doveva essere doveva essere il punto a favore della spagna così non fu perché omar camporese perse i primi due set al tie break 7 6 7 6 7 6 7 mi ricordo la disperazione di me ragazzi ragazzi insomma 97 avevo 18 anni di me di me triste che 20 anzi ne avevo me ne sto togliendo due che al fine secondo set abbraccio mio padre e fa madonna quanto siamo sfortunati o una cosa del genere e camporese va negli spogliatoi prende dieci minuti di tuole di tuole si trasforma e torna il camporese del 92 93 e impartisce nei tre set successivi una sonora lezione a carlos moia infatti i tre set successivi finiranno 61 63 63 vittoria fondamentale perché porta porta l'italia sull'uno a zero porta l'italia clamorosamente in vantaggio in quel confronto che non ci doveva essere io mi ricordo che all'epoca facevo il corso di tennis qui a siena e il mio maestro di tennis quando ci toccò la spagna mi disse guarda che sono solo forti ma in cinque partite può può succedere veramente può succedere veramente di tutto e insomma ova vince vince quella partita e dette la e dette la la possibilità al a full run di entrare in campo da da sfavorito ma 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 da ma con meno pressione e full run riuscì a battere costa altro giocatore che partiva favorito per 466 346 64 61 un tripudio al all'epoca astronave di pesaro che c'è tuttora l'italia ci ha rigiocato poi con la svizzera in quella con la svizzera nel nel 2016 se non erro a a pesaro ecco ci fu il delirio 2 a 0 per l'italia dopo il venerdì delirio che poi si si trasformò in godimento totale quando appunto diego narciso e omar camporese vinsero il doppio in in tre set vinsero vinsero appunto il doppio in tre set chiudendo chiudendo la serie chiudendo la serie addirittura addirittura al sabato e rendendo inutili gli ultimi due singolari della domenica e l'italia vincerà la sfida per per 4 1 un punto per parte nei due singolari inutili della domenica e andremo a giocarsi la la semifinale a annanth non non annanth si annanth contro la francia quando per quando no no contro gli stati uniti contro gli stati uniti perderemo se non erro perderemo in casa dagli stati uniti aspettate non mi ricordo non mi ricordo la semifinale andremo a giocare no no andremo a noccepping scusate in svezia e perderemo per per 4 a 1 poi la svezia vincerà quella coppa davis ma insomma l'impresa di omar resta e era giusto nel io questa questa serie la faccio uscire il lunedì il giorno dopo del suo compleanno fare gli auguri e dedicare un un video a alla persona che mi ha emozionato di più nel nel tennis azzurro quando dell'età più bella perché quando ai 15 16 17 18 anni è veramente l'età in cui non devi lavorare in cui vai a scuola ma alla sera poi puoi guardarti le partite e quindi devo dire grazie a omar per le emozioni che mi ha dato da piccolo da grandicello insomma cioè da ragazzo e emozioni che sto riprovando ora con i nostri ragazzi ma certamente le aspettative adesso sono più alte quindi anche ogni sconfitta è una delusione più alta camporese sapevamo di avere conto dei mostri sacri e ci godavamo ogni vittoria cosa che ora non viene fatta io vedo sugli italiani critiche a ogni sconfitta e ragazzi si può perdere noi italiani siamo abituati nel tennis a perdere da 40 anni quindi godetevi quando i nostri vincono e prima o poi vediamo se riusciamo a vincere qualcosa di importante ma insomma pensate che abbiamo affidato a che non ci siamo andati siamo stati nella storia anche sfortunati perché ripeto camporese era un giocatore che se la giocava con i top e un infortunio ce l'ha tolto di mezzo nel momento migliore della carriera quindi io faccio di nuovo gli auguri a omar che probabilmente ovviamente questo video non lo vedrà mai ma se lo vede auguri per il suo compleanno grazie per le emozioni che mi ha fatto provare ripeto dal ragazzo andavo a scuola io avevo il diario con i tabelloni dei tornei lunedì non ci scriveva i compiti ci mettevo i tabelloni dei tornei dei diari quindi pensate un po e quindi grazie a omar noi ci vediamo noi ci vediamo dopo per il commento di roma guardate anche il video dei pronostici che è uscito stamani grazie a tutti e buon lunedì e buona giornata